Salve a tutti ragazzi, qui è G-SurfedGamer e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui ragazzuoli per annunciarvi cose molto molto importanti. Infatti volevo parlare un po' con voi della programmazione dei video che ci sarà nel mese di agosto. Come molti di voi sapranno, io andrò in vacanza per tutto il mese. Però potete stare tranquilli perché ho preparato un video al giorno per tutto il mese di agosto. Ora però vi spiegherò meglio i dettagli. In primo luogo ragazzi io vi invito a seguirmi su Facebook e Instagram perché siccome sarò in vacanza mi sarà molto più facile comunicare con voi. Su Facebook come al solito vi farò sapere che video arriveranno e quindi vi posterò tutte le immagini e le foto dedicate ai video stessi. Mentre invece su Instagram vi pubblicherò un bel po' di foto quando sarò in vacanza al mare. Per cui sono davvero sicuro che vi piaceranno. Ovviamente su entrambi i social network mi trovate come JosephedGamer oppure come al solito potete cliccare il link qui in basso in descrizione. Se non volete perdervi nessuno dei miei video vi basta andare sull'applicazione di YouTube, aprire il mio canale ovvero JosephedGamer e poi cliccare sulla campanellina che vedrete. In questo modo ragazzi quando uscirà un mio nuovo video arriverà addirittura una notifica sul vostro cellulare come se fosse Facebook, Instagram e tutto il resto. Vi consiglio di fare questa cosa non solo per JosephedGamer ma anche per il mio secondo canale Joseph Games ma anche per tutti gli altri youtuber che volete seguire nel periodo di agosto quando magari sarete in vacanza. Secondo me è davvero un'ottima introduzione questa di YouTube perché finalmente si risolve un po' il problema legato ai feed che non arrivano appunto agli iscritti. Quindi ragazzi mi raccomando in questo modo non vi perdete nulla. Passiamo però finalmente a quella che sarà la programmazione dei miei video. Infatti ragazzi mi sono organizzato in questo modo e tutto quello che dirò lo spiegherò nuovamente nella descrizione di questo video. Quindi magari se vi siete persi qualcosa di quello che dirò a breve potete leggerlo qui in basso. Partiamo dal canale principale ovvero quello in cui state vedendo questo video JosephedGamer. Infatti pubblicherò 4 video a settimana quindi arriveranno il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Sul mio secondo canale ovvero Joseph Games sul quale come sapete stiamo portando avanti una nuova serie di Minecraft legata ad Assassin's Creed, poi anche Pokémon, Clash of Clans. Arriveranno 3 video a settimana quindi il martedì, il giovedì e il sabato. Quindi in pratica i 3 giorni in cui non pubblico video sul mio primo canale. In questo modo quindi mi sono assicurato di portarvi almeno un video al giorno appunto per tutti i giorni della settimana. E questa cosa ragazzi andrà avanti per tutto agosto. Non dimentichiamoci però anche dei video che arriveranno su WeGamers.it ogni settimana il giorno mercoledì. Per cui mi raccomando non perdetevi anche quelli. Se vi fate qualche piccolo conticino considerando che agosto sono 31 giorni, ho preparato quindi 31 video più i 4 di WeGamers quindi una settimana. In totale fanno 35 video che io ho preparato nel mese di luglio quando pubblicavo i miei soliti video, 2-3 video al giorno. Quindi ragazzi per me è stato davvero complicato riuscire a sostenere questa mole di registrazione, di editing. Mi svegliavo la mattina presto, andavo a dormire tardi però ragazzi è stato qualcosa che ho voluto fare per non lasciarvi senza video. L'idea mi faceva davvero soffrire, non mi andava per nulla di lasciare il canale a se stesso, andare in vacanza e festeggiare senza importarmi di nulla. Non sono fatto assolutamente così, quindi ho anche deciso tramite questo video di comunicarvi tutte queste cose importanti anche per farvi sapere quindi che non riuscirò a rispondere a tutti i commenti dato che essendo in vacanza mi sarà piuttosto complicato perché non ho un computer da utilizzare. Avrò però il mio smartphone, quindi questo mi permetterà comunque sempre di stare in contatto con voi come detto prima tramite Facebook, tramite Instagram, poi qualsiasi cosa vi aggiornerò tramite appunto tutte le cosucce che ho qui. Quindi potete stare tranquilli ragazzi, quindi io vado in vacanza, il mio canale con i miei video no per cui ragazzi sono davvero fiero di tutto il lavoro che ho fatto appunto per questo mese di agosto che verrà. Vi faccio anche qualche piccola anticipazione, infatti ragazzoli arriveranno altri video di 60 Seconds, anche qualche video molto interessante riguardo Dragon Ball Xenowels, sia magari delle strategie e guide particolari ma anche la serie che tanto amate ovvero quella What If. Non mancheranno anche video con Francesca ad esempio su Rocket League, appunto Dragon Ball e poi anche altri video. E non dimentichiamoci di tanti vlog e Q&A che vi ho preparato ragazzi di sicuro vi piaceranno. Non ho nient'altro da aggiungere quindi che dirvi semplicemente che in questo periodo di vacanza mi dedicherò molto alla lettura di manga, ma anche al mio 3DS XL sul quale posso finalmente concludere tanti giochi che mi sono lasciato arretrato per troppo tempo, come ad esempio Pokémon Zaffiro Alpha, che ne so Luigi's Mansion, altri Super Mario, per cui davvero io non vedo l'ora. Quindi ragazzoli questo video per aggiornarvi un po' di tutte queste cose importanti si conclude qui, so che è stato breve ma volevo assolutamente comunicarvi questa cosa tramite un video. Mi raccomando spolliciate e lasciatemi un bel commento per farmi sapere un po' in questo periodo cosa state facendo, se state andando al mare, se vi state dedicando ad un videogioco in particolare o qualsiasi altra cosa. Io vi saluto e alla prossima. Ciao!